Grazie a tutti Tu hai toccato con la gamba e il pallone dalle mani di Santarelli? Ancora, lui mi è venuto addosso e la palla è una rasbatte sulla gamba Se puoi scappare dalle mani non ci posso fare niente Non è che devo fare, la palla mi arriva là Grazie Biancoli